Presentati dal Comune di Teramo gli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità a seguito del sisma del 24 agosto 2016 che interesseranno la statale 81 Picena-Prutina nel tratto Scapriano-Ponte-Vezzola con Tradarupo. L'intervento di cui è soggetto attuatore l'ANAS rientra nell'ottavo stralcio del programma degli interventi post-sisma di messa in sicurezza e ripristino della viabilità ed è anche finanziato all'interno del fondo complementare al PNRR. Grazie all'ANAS, grazie ai finanziamenti sia per il sisma del 2016 che integrati con i fondi del PNRR, l'altro giorno abbiamo partecipato a una conferenza di servizi dove ci hanno sottoposto ad approvazione ovviamente un tracciato alternativo che bypassa un po' l'abitato di Piano della Lenta. È una strada alternativa che ovviamente ha un costo molto importante e che va ovviamente a sgravare la viabilità cittadina, extra cittadina che passa oggi sul Piano della Lenta. È un tracciato importante, un tracciato con una parte in galleria e una parte in viadotto ma che veramente ci consentirà non solo di sistemare la rotatoria di Ponte-Vezzola sotto il profilo anche dei camminamenti pedonali che tutt'oggi non sono stati realizzati ma ci consentirà veramente di avere una strada alternativa sicuramente più scorrevole verso Ascoli Piceno e nello stesso tempo che sgraverà la viabilità interna di Piano della Lenta. L'obiettivo del Comune è quello di appaltare i lavori già nel prossimo anno, una nuova bretella che permetterà un netto miglioramento alla viabilità verso le marche. Ma guardi, essendo inserito all'interno del PNRR sicuramente saranno tempi anche in questo caso molto veloci e anche credo che nel 2023 ci dovrebbe essere già l'appalto dei lavori. Sono convinto che saranno celerissimi ma nello stesso tempo anche questa aspettativa rappresenta per noi veramente un miglioramento qualitativo sotto il profilo della viabilità ambientale e non solo. Quindi è una cosa importante. Devo ringraziare ANAS, devo ringraziare tutta la struttura ingegnale Fulvio Soccodato, devo ringraziare un po' tutta la struttura di ANAS a livello nazionale e non solo quella regionale ma perché veramente in questo periodo i risultati di una buona attività di collaborazione e di rapporti che abbiamo costantemente con loro saranno i frutti che noi ci aspettavamo.